Una manciata di minuti per mettere a segno un furto in pieno centro cittadino e portare via i soldi di una pensionata, il tutto durante il cenone di Natale nel giorno della vigilia. E' quanto accaduto ad una 65 anni di Giuliano che la sera della vigilia era andata per il cenone di Natale a casa della figlia. E' così che entrano in gioco loro. Si tratta di una coppia di ladri, un uomo sui 30 anni e una donna poco più che 25enne. Ma i due sono stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza. Hanno agito come nulla fosse. Sono entrati all'interno del cortile fingendo di cercare qualcuno. Eventualmente fossero stati scoperti, ma invece avevano chiaro come agire. Prima un giro di perlustrazione e poi la scelta di dove colpire. Salgono le scale di un appartamento del piano realzato, ma la donna si accorge delle telecamere e fa marcia indietro. Fingono di andare via, ma poi rientrano. Vanno diritti all'obiettivo. Un secondo appartamento a pian terreno. Aprono con facilità la porta e si infiliano all'interno. Nel frattempo, all'interno del cortile entrano altre persone, tutte ignare di quanto sia accadendo nell'appartamento. I due aprono i mobili, controllano palmo palmo il tutto. Poi, all'interno dell'armadio, nelle tasche dei cappotti, trovano tre borsellini. La vittima metteva lì i soldi per la spesa. I due malviventi arraffano il tutto, borsellini compresi, ed escono chiudendo la porta. Dalle telecamere si vedono uscire senza problemi, un colpo messo a segno nel giorno della vigilia di Natale, che fa doppiamente male, visto che i due malviventi hanno sottratto i soldi della pensione dell'anziana vittima in un giorno di festa.